È 1 ottobre 2017 in Paratico, Brescia, Italia e con un po' immagini di Isoldi sono finiti Siamo qui con Andrea Carminati, vocalista e guitarista dell'italiano rock and roll band The Cams Ciao Andrea, come sei? Ciao, buona giornata È bello essere qui, bello lago È un piacere essere qui and I go drink another beer, one more beer before playing and that's it Ok, thanks Thank you